Elevo la mia voce per deplorare che un sacerdote impegnato nell'annunciare il Vangelo sia stato barbaramente eliminato. Sono passati trent'anni dalla sera del 15 settembre 1993, quando il caro Don Pino Puglisi concluse tragicamente la sua esistenza terrena proprio in quel luogo dove aveva deciso di essere operatore di pace. Questo sacerdote non si è fermato, ha dato a se stesso per amore, abbracciando la croce sino all'effusione del sangue. Abbiate il coraggio di osare senza timore, infondete speranza a quanti incontrate, i giovani poi siano al centro delle vostre premure, sono la speranza del futuro.